Una vittoria importante, abbiamo sofferto, abbiamo sofferto perché siamo partiti ancora un po' in contratti dopo la bruttissima prestazione contro la Viola, perciò mentalmente ci dovevamo togliere di dosso quella prestazione e piano piano siamo riusciti a giocare, a giocare la nostra pallacanestro e poi nel terzo quarto, fine terzo quarto e inizio quarto siamo un po' crollati fisicamente, è dura perché noi ci alleniamo l'ultimo allenamento che abbiamo fatto è mercoledì, ci ritroviamo la domenica a distanza di quattro giorni, le gambe alla fine non rispondono per come dovrebbero, speriamo dopo questa vittoria di iniziare a avviare questo percorso che ci siamo prospettati a inizio stagione, speriamo un in bocca al lupo a tutti, specialmente alla società nostra e speriamo di continuare così.